Posso dirti una cosa, non voglio esagerare, però stasera sei veramente splendida, veramente splendida. Chi ci mette la firma per arrivare alla tua età così? Ma veramente, veramente, veramente. Chango, vieni qua, vicino a mamma bea, vieni qua con l'anatra, un anatra, cos'è, un faggiano reale? Cos'è? Ecco, lancia, se il video si vede male è perché mi sta spingendo il video un gatto, eccola qua la gatta. Sì, infatti questa cosa sta facendo, ora la sta buttando vicino a un birmano, il quale lo guarda molto interessato perché si è freddo, la mamma fa così. Già guardando cosa ha fatto i diversi con la mamma. È vero che gli sbatacchia la cosa in aria. Che li lanciano. Perché adesso, mercoledino, sei venuto all'esporto di piadina medievale? Eh, guarda, ho passato tutto pomeriggio in casa a tuettare. Ah, deve essere il virus. Ah, mi devo curare. E conviene. Ho preso lo stomaco. Prende tutti. No! Veramente. Sono preoccupato. Non vedevi. Nel figlio. Plutano, cos'è? Cosa è successo? Adesso esce la sera e dice che va a clavicembalo. A clavicembalo. Sì, poi torna a prendere così. Sì, questo momento ti dico che è matto. Si lancia da solo le cose e poi c'è paura di non farse le apprendere. Sì, questo momento ti dico che è matto di non farse le apprendere.